SORELLE E FRATELLI Sorelle e fratelli, Dio ci accoglie. Si rallegra di vederci riuniti attraverso le onde della radio. La Sua parola ci fortifica. Il Suo Spirito ci consola e ci rallegra. Amen. Dice il salmista, Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi e che non si ferma nella via dei peccatori. Beato colui che non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce. Chi sarà come un albero così sa che tutto quello che fa prospererà. Preghiamo. Dio nostro, fonte della nostra vita, Tu ci nutri come un albero vicino a un ruscello, ci nutri col cibo, ma ci nutri anche con la Tua parola. Noi abbiamo bisogno della Tua parola per vivere. Le nostre radici sono la Tua grazia e il nostro fogliame è il Tuo amore. Come un albero ha bisogno del vento per essere smosso, noi abbiamo bisogno del Tuo spirito. nutrici dunque con la Tua parola, ma dacci il Tuo spirito affinché la intendiamo. Nel nome di Gesù. Amen. Ascoltiamo adesso, fratelli e sorelle, l'inno 25. Amore eterno, mia sovra di Tuo, perché mi ha udito l'alto mio lamento, per il mio sospito e il mio consattento, tutti i miei giorni donerà il Signor. Mare, vai tutto quel mio amai là, vita cosciosa, parità distretta, e della morte preso nell'aspetta, così il Signor mi forza sopplicà. Maria, Maria, pulire al Signor, masciuga al piano, pira a terra e al piede, ammire, o dà marchi a te confere, la lettura proposta oggi è tratta da Cronache 2, capitolo 32, versetti da 24 a 33. In quel tempo Ezechia fu colpito da una malattia che doveva condurlo alla morte. Egli pregò il Signore, e il Signore gli parlò e gli concesse un segno. Ma Ezechia non fu riconoscente del beneficio ricevuto, poiché il suo cuore si inorgoglì e l'ira del Signore si volse contro di lui, contro Giuda e contro Gerusalemme. Tuttavia Ezechia si umiliò per essersi inorgoglito in cuor suo. Tanto egli quanto gli abitanti di Gerusalemme, perciò l'ira del Signore non si riversò sopra di loro durante la vita di Ezechia. Ezechia ebbe immense ricchezze e grandissima gloria e si costruì depositi per riporvi argento, oro, pietre preziose, aromi, scudi, ogni sorta di oggetti di valore, magazzini per il grano, il vino, l'olio, stalle per ogni sorta di bestiame e ovili per le pecore. Si costruì delle città ed ebbe greggi e mandri in abbondanza, perché Dio gli aveva dato beni in gran quantità. Ezechia fu colui che turò la sorgente superiore delle acque di Ghion e le convegliò giù, direttamente, attraverso il lato occidentale della città di Davide. Ezechia riuscì felicemente in tutte le sue imprese. Tuttavia, quando i capi di Babilonia gli inviarono dei messaggeri per informarsi del prodigio che era venuto nel paese, Dio lo abbandonò per metterlo alla prova e conoscere tutto quello che egli aveva in cuore. Le rimanenti azioni di Ezechia e le sue opere pie si trovano scritte nella visione del profeta Isaia, figlio di Amoz, inserita nel libro del re di Giuda ed Israele. Ezechia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto sulla salita delle tombe dei figli di Davide. Alla sua morte tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme gli resero onore. Manasse, suo figlio, regnò al suo posto. Noi abbiamo ascoltato la lettura di questo passo del secondo libro delle cronache, capitolo 32, versetti da 24 a 33, dove si parla del re Ezechia. Il re Ezechia è ricordato nella storia del Regno del Sud essenzialmente per tre cose. Innanzitutto per una riforma religiosa attuata anche con l'aiuto del profeta Isaia, con cui viene ristabilito il vero culto di Yahweh e sono represse tutte le tentazioni di idolatria. Ezechia è ricordato per un secondo motivo, e cioè per l'aiuto ricevuto da Dio, grazie al quale Gerusalemme riesce a scampare all'invasione a Sira, che invece conquista il Regno del Nord. E infine, terzo motivo, Ezechia è ricordato per la sua vicenda personale, in cui viene colpito da una malattia mortale, ma dalla quale viene guarito in seguito al suo pentimento. Era stato colpito per l'orgoglio di cui si era reso colpevole. E questa tentazione continua a oscillare un pochino, ma, insomma, la grazia di Dio rimanda la morte secondo l'indicazione precisa di quindici anni. Nel nostro testo, però, c'è un particolare che non c'è negli altri due testi in cui si parla di Ezechia in modo praticamente uguale al testo che abbiamo ascoltato, cioè nel secondo libro dei Re, che ispira anche il secondo libro delle Cronache, anzi, i libri delle Cronache, che sono praticamente una trascrizione della storia di Israele, ripresa appunto dai libri dei Re e poi proseguita con i libri di Esdra e Neemia. Il particolare che invece è riportato qui devo dire che non mi entusiasma perché è detto che Ezechia, dopo la guarigione, ebbe immense ricchezze e grandissima gloria e si costruì depositi per riporvi argento, oro, pietre preziose, aromi, scudi e ogni sorta di oggetti di valore. Poi costruì magazzini per il grano, il vino, l'olio e poi ancora stalle per ogni sorta di bestiame e ovili per le pecore. si costruì poi delle città ed ebbe greggi e mandrie in abbondanza perché Dio gli aveva dato beni in grande quantità. La descrizione di un personaggio simile nel nostro tempo vorrebbe dire che uno si è arricchito perché sono stati impoveriti degli altri. Nessuno può accumulare grandi ricchezze così se non depredando un po' chi gli vive accanto. Quindi il re per questo particolare non c'è particolarmente simpatico. Però nella predicazione dei sacerdoti postesilici alla cui scuola risalgono i libri delle cronache questo dettaglio di ricchezze ha probabilmente lo scopo di annunziare che il Signore non lascia senza ricompensa chi fa la sua volontà. E nel caso del re le ricchezze accumulate non sono tanto un patrimonio personale quanto una benedizione per l'intero popolo di Gerusalemme c'è appunto una solidarietà questa è un po' una personificazione che concentra in sé tutto il popolo di Dio almeno tutto il popolo di Gerusalemme. In questo senso il successo economico può anche essere visto oggi come un risultato di una comunità che segue la legge di Dio o anche semplicemente se una comunità una società è giusta e pacifica la società che opprime i più deboli coltiva la violenza spende patrimoni in armamenti è destinata invece oggi a un'economia stentata che colpisce soprattutto gli strati più deboli della popolazione c'è una teologia che viene chiamata teologia del successo che invece pensa che queste benedizioni di Dio possano essere vincolate anche a una persona singola un libro che riassume anche nel titolo questo pensiero è intitolato appunto Dio dirige i miei affari no Dio non dirige i miei affari se lasciamo che gli affari siano diretti da Dio allora devono essere i nostri deve essere una ricchezza che è distribuita in modo giusto allora il testo che a prima vista sembra un po' scandaloso noi lo possiamo tradurre così l'umanità avrà immense ricchezze e grandissima gloria e si costruirà depositi per riporvi anche l'argento l'oro e le pietre preziose possono esserci anche questi beni voluttuari questa umanità solidale potrà costruirsi i magazzini per il grano il vino l'olio stalle per il bestiame ovili per le pecore e anche delle città per ospitare i senza tetto per ospitare chi è stato privato della propria casa e ci saranno anche in queste città greggi e mandrie in abbondanza perché Dio avrà dato beni in grande quantità Amen ascoltiamo ora l'inno 322 siamo figli di un solo riscatto d'amore un medesimo patto di fede di spene di piccola insieme col nostro possente Signor ci raccogliamo in preghiera Signore quando noi ti chiediamo il pane quotidiano sappiamo che tu doni non soltanto il briscolo di cibo che ci serve per i pasti di oggi ma ricolmi i tuoi figli e le tue figlie delle stesse ricchezze di cui hai colmato il re Ezechia rendici riconoscenti per questa possibilità che tu apri davanti a noi che non è soltanto una possibilità economica ma è anche un Evangelo una buona notizia non è senza rimedio un'umanità che invece depreda i tuoi beni ma può esserci invece il rimedio della solidarietà la buona notizia è che le cattive notizie delle violenze delle guerre della fame nel mondo non è l'unica notizia possibile ma c'è la buona notizia dei tuoi doni Amen Ascoltiamo ora l'inno 217 Padre nostro che in cielo ti mori e il tuo nome salte alla virtù su l'unica notizia si è fatto Signore come in cielo il tuo volere qua giù oggi il pan quotidiano ci dona e le offese di venti ciancòi come ognuno di voi le perdona al al fratello che viene vittor Chico esterno amorevole paterno, dalle insidie del gran tentatore. Tu sei il regno potente e l'eterno, tu fedele e glorioso Signore. Ed ora, fratelli e sorelle, siate imitatori e imitatrici di Dio, perché siete figli e figlie amati da Lui. Camminate nell'amore come Cristo vi ha amati. E la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo, siano con tutte e tutti voi, ora e sempre. Amen. Amén.